ciao ben ritrovati a tutti siete pronti per l'incontro di stasera 30 secondi e siamo da voi eccoci in onda su anima tv la web tv di anima edizioni sapete già chi è l'ospite di stasera perché avete letto il titolo visto la locandina già cominciano ad arrivare dei commenti ma prima di farlo entrare in regia vi ricordo come sempre che potete seguirci sul nostro sito www anima punto tv sulle nostre pagine facebook anima edizioni e anima tv e sul canale youtube anima per essere avvisati delle nostre dirette potete attivare le notifiche su facebook su youtube e per tutte le informazioni iscrivetevi alla nostra newsletter su www anima punto tv è ora il giunto è ora giunto il momento di dare il benvenuto al nostro ospite igor sibaldi giunto il momento grazie igor buona serata grazie a te per essere qui allora carissimi igor sibaldi non ha bisogno di presentazioni ma molto in breve ricordo che lui è studioso di teologia storia delle religioni filologo filologo nonché scrittore filosofo considerato uno dei più autorevoli esperti di spiritualità in italia ha scritto numerose opere di narrativa saggistica e anche teatrali con argomenti incentrati sulle sacre scritture sulla cabalà gli angeli le funzioni della psiche realizza inoltre diversi corsi e video e anche con noi di anima edizioni e stasera siamo qui appunto per parlare proprio di un suo video corso un po diverso dal solito perché è più un viaggio e mi riferisco a stories quando le nostre vite si intrecciano e quindi partiamo da qui e io ho il piacere anche di mostrare intanto la copertina eccola qui stories quando le nostre vite si intrecciano igor sibaldi bella copertina e visto forte è bravo la il grafico che l'ha fatta sì sì molto in gamba allora e igor in questo video corso tu ci narri le tue idee ci parli dei tuoi maestri delle conoscenze le coincidenze i percorsi ci dai tantissimi spunti di saggezza leve per aprire la mente per andare oltre preconcetti e schemi poi stasera toccheremo insomma qualcuno degli argomenti trattati e è una sorta a me sembra una sorta di libro fatto a video cioè un libro video con dentro tanti libri tanti viaggi i viaggi che tu hai fatto nella tua vita com'è nata l'idea di questo video corso a me l'ha detto l'editore è come sempre come la maggior parte delle delle cose che faccio con le mie edizioni sono idee dell'editore che un grande editore che ha delle idee molto buone ci sono pochi grandi editori in italia molto pochi soltanto l'editore dice a autore che bell'idea è avuto grazie invece è raro che ci sia l'editore ci sai autore potresti fare questa cosa qui e ci vuole stoffa stoffa io non ho conosciuto ma non solo in italia anche all'estero conosciuti pochi gli editori che facessero veramente gli editori così quindi d'essere la sua racconta la tua storia la tua storia personale come hai cominciato come hai sbagliato come hai fatto qualcosa di diverso eccetera eccetera da chi ha imparato e da che imparato tanto cioè ho detto quello che mi ricordavo perché non è che uno si ricorda tutto anzi ci sono del tutto una pari sono le biografie nelle autobiografie che uno fa per conto suo prima di dormire magari non diceva cosa ho fatto in non è che uno si ricorda tutto ma che non si ricorda tutto si ricorda quello come un riflettore che illumina una parte di bosco vede quegli alberi lì intorno c'è tanta roba e ho cercato di metterci il più possibile anche mentre parlavo siccome è stato fatto in modo interessante quel video lì mi hanno chiuso dentro in una stanza con l'operatore 88 9 ore al giorno e questo aumenta enormemente l'intelligente cioè se tu sei in una stanza a dover pensare ad alta voce con uno tra l'altro anche bravo antonello intelligente che ti segue e che critica quando sbagli di alla fine del primo come dal primo dei due pomeriggi diventi intelligentissimo poi finisce la cosa torni stupido come prima sempre quando scende dal palco scenico cambia tutto ricordiamo che l'editore di cui stiamo parlando in questo caso è il direttore di anima edizioni jonathan falcone quindi lui arriva e tu non avevi mai pensato di fare un corso dedicato alla storia delle tue idee è arrivato assolutamente l'unica biografia che ho fatto è quella di wikipedia che è di tre righe tre righe tre righe e mezzo e pensavo che altro posso dire sono sempre seduto no non ho sempre seduto in realtà sono stati gli episodi di movimento nella mia storia che venivano fuori anche nel video per esempio la volta che ho fatto il reporter di guerra e così via durante la guerra del caucaso è stato interessante perché non avrei mai pensato di fare il report produttore romano ha detto ma lei ha da fare se settembre e dico sì normalmente dice se le diamo due elicotteri il giubbotto è una buona compagnia di operatori di audio lei va in guerra e tommasi e quindi si è andato lo scopo di questa di questa cosa era intervistare scevarnazze intervistare scevarnazze che loro è il presidente della georgia del caucaso e la georgia era in guerra in quel momento con tutti gli ex paesi dell'unione sovietica contro tutti tutti la prima notte abbiamo dormito a casa di scevarnazze ma lui non c'era una villa fuori dalla capitale e poi per 15 giorni abbiamo inseguito scevarnazze attraverso tutta la georgia fino a intervistarlo l'ultimo giorno prima di partire è stato un episodio memorabile mai stato al fronte però ha capitato solo una tempesta molto vicino al fronte insomma però non ho visto scene le scene che si vedono nei film di guerra igor arrivano già cominciano arrivare diverse domande allora ce n'è una in atto a cui faccio seguire la mia perché collegata scrive stefania è in atto la speciazione vero sì 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 allora il tuo no perché il tuo video corso si apre anche dicendo che questo è un momento di svolta per la civiltà credo che quindi l'argomento sia quello dici un po qualcosa su questa speciazione è stata una sorpresa perché è una teoria degli anni 90 sta qui gli anni 90 elaborate da alcuni agli anni 80 alcuni sociologi filosofi eccetera dicevano guarda qui tutto fa pensare che l'umanità si scinda in una grande massa di persone in una piccolo numero di persone non è detto che il piccolo numero di persone siano più fortunati però sicuramente la grande massa andrà illusoriamente nella direzione in cui andava prima perché le cose cambieranno a me era piaciuta tanto invece quella piccola parte cercherà direzioni nuove inascoltata dalla grande massa a me era piaciuta sta cosa perché le persone teorici che ne parlavano non si accorgevano non si accorgevano delle coste la costante storica della speciazione cioè era già venuta un sacco di altre volte questa speciazione venuta non so per esempio famosissimo al tempo di mosè ad un certo punto mosè produce una speciazione c'è l'impero egiziano omogeneo con tutti gli imperi mosè si inventa un popolo per la prima volta si inventa un popolo e lo porta via dall'egitto e questo popolo ha tutto una diventa una specie nuova culturale è una specie culturale nuova che dopo un po' non ha più niente a che fare con l'egitto niente anche se ha preso tutte le ricchezze di quell'egitto lì si le ha portate via e le ha rielaborate un'altra speciazione l'ha tentata gesù che dice ma non vedete che sta per crollare tutto venite via venite via gesù imitava molto mosè poi ce ne sono state altre anche recenti dico ma guarda che bella questa teoria l'ho studiata un po' c'erano tante cose da leggere ho scritto un libro mi sembra nel 2016 il 2017 sta per arrivare sta per arrivare non sapevo che fosse già in corso era già in corso e dopo un po' si è prodotta attualmente è macroscopica cioè si vede bene non è solamente italiana non è solo italiana una speciazione italiana europea c'è stata all'inizio del novecento quando una parte della popolazione d'europa italia ungheria polonia russia germania anche libano sono partiti in blocco verso gli stati uniti e l'argentina e si è formata questa nuova specie di italo americani ungaro americani russo americani ebreo americani che non erano americani e non erano più né italiani né ungheresi né russi né ebrei attualmente non è solo italiana riguarda tutto l'occidente cioè se uno vede le notizie tremende che arrivano dal punto di vista culturale dagli stati uniti per esempio non so biancaneve è immorale perché il principe bacia biancaneve quando dorme ho sentito oppure oppure colombo uno schiavista in un'epoca in cui gli schiavi erano cioè la gente contentissima di essere schiava che si piazzava nel cinquecento in europa era normale la condizione dello schiavo e colombo non era uno degli schiavisti confronto i padri della degli americani cioè quelli che ha fatto l'evoluzione quelli siano schiavisti a poi questa cosa che l'ilia dell'odissea sono opere divisive e non vanno prese in considerazione queste di oggi pur che gauguin è un pittore che non va guardato perché stava con le ragazzine questo qui è si vede che è avvenuto qualcosa di straordinario cioè tutta una parte di cultura che c'era prima in questi anni questi ultimi tre e quattro anni si è disgregata in una grande quantità di persone e non è più recuperabile per se tu vai a spiegare guarda che l'ilia dell'odissea sono una cosa divisiva razzista sono una storia di una guerra e sono soprattutto un bellissimo poi due bellissimi poemi uno più interessato dell'altro perché si è formata un'altra lingua se avanti così tra un po con questo tipo di persone non si potrà più comunicare assolutamente le specie diverse se si uniscono non si riproducono se si accoppiano non si riproducono oppure producono il mulo che non si può riprodurre a sua volta nella l'ambito culturale se due persone parlano si stanno accoppiando culturalmente e viene vengono fuori risultati culturali se due persone comunicano diventa e diventerà impossibile sta diventando impossibile per alcune persone comunicare con le altre per una minoranza diventerà impossibile comunicare con una maggioranza e da questo punto di vista l'italia è messa ancora bene ancora bene perché ha solo per adesso un problema di carattere linguistico forte cioè una parte della produzione italiana sta perdendo alcune strutture della lingua italiana disgregando un'altra parte prima le ha mantenute andando di questo passo tra qualche mese a una parte italiani parlerà e l'altra parte dirà ma cosa ha detto questo qua non si capisce perché dice parole che non capiamo russia ha già avvenuto questo russia è già avvenuto russia è avvenuto qualche tempo fa mi ricordo avevo fatto delle conferenze a kiev a kiev dove parlano russo e alla fine della conferenza c'è un punto una signora che si avvicina dice lei di che migrazione cioè lei quando è che è andato all'estero la sua famiglia primo novecento no 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 mia madre della terza migrazione l'aria durante gli anni 40 ma dai davvero e perché parla così lei usa parole che noi non conosciamo ogni tanto dico tipo quale lei dice per esempio la parola l'asca l'asca vuol dire carezza carezza mia nonna non sapeva cosa doveva dire l'asca ma noi non usiamo più questa parola dico non usate più la parola carezza e come dite per dire carezza ma non usate più dire tenerezza dicono questo movimento qua di accarezzare come lo chiamiamo non c'era più la parola non c'era più la parola e sono accorgi che strano c'è questo però alaska lasca che la bella parola anche l'asca lì è già avvenuto adesso davvero a questo però c'è speciezione corso di carattere culturale culturale che impedisce impedirà la comunicazione tra una parte della popolazione e un'altra parte sì sì che fare dunque secondo me la piccola parte speciata diciamo si dividerà in due aspetti primo aspetto gli sfruttatori quelli furbi che dicono ragazzi per l'ottanta per cento della popolazione non c'è più niente da fare tanto vale che li sfruttiamo facciamo su un sacco di soldi gli diamo quel poco che vogliono e loro non sanno organizzare noi signi e ci facciamo un sacco di soldi li facciamo diventare ancora più stupidi ancora più stupidi e loro saranno contenti di essere ancora più stupidi e quelli lì saranno gli sfruttatori poi saranno altri tipo moseno tv che invece tirano ma adesso da quella di prima non ci torno più andiamo da qualche altra parte ma nessuno ti viene dietro a chi se ne frega cioè andiamo da qualche altra parte che si qui sono quelli interessanti sono quelli che faranno andare avanti un po la situazione però certo non se la passeranno bene se sentiranno un po soli il destino forse un po di chi apre i sentieri no inevitabilmente sì 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 a volte va bene per esempio la una speciazione di quelle facili è confronto a quella attuale è stata nel primo novecento con l'immigrazione appunto questi qui avevano l'italia in italia l'italia era nuova pena fatta aveva trent'anni l'italia 1260 comincia 1890 l'immigrazione e c'è una serie di persone non solo meridionali che dicevano a me sto paese non mi piace dove dove andare boh non conosco nessun altro paese perché non so neanche né leggere né scrivere dice ma c'è un piroscofo che va verso ovest dove in america e cos'è l'america ha visto una foto no allora andiamo in america e questi partivano non sapevano dove andava c'erano 20 giorni di mare ma non spero dove andavano coraggio pressione a chi c'è chi non c'è pariavano lì capivano avevano questa cosa questa caratteristica interessantissima durante le specie azioni la minoranza staccandosi dalla maggioranza diventa attivissima diventa molto più intelligente molto più attiva molto più propensa alle scoperte e gli tre americani non se la sono passata male o gli ebrei americani e russi altro che cioè gli ebrei americani in america se ne sono trovata molto bene adesso è un po più difficile perché non c'è più un'america dove andare vediamo cosa succede nei prossimi anni allora c'è una domanda ti leggo una domanda c'è ci sono tante domande maria grazia buonasera sto leggendo il mondo dei desideri 101 progetti di libertà di igor molto bello volevo chiedere a igor la fede o la spiritualità secondo lui cos'è e come si possono vivere oggi che bella domanda allora spiritualità è una nebbia una nebbia promettente perché una nebbia perché dicendo spiritualità non si dice niente si dice niente cioè le persone che si occupano di spiritualità non hanno idea che cosa significa la parola spirito e che differenza c'è tra spirito e anima per esempio perché non è un'idea e perché nessuno gliela mai spiegato cioè nella religione cristiana per esempio sono tre persone di linea il papà il figliolo lo spirito santo del papà si sa un sacco di roba del figliolo si sa quasi tutto lo spirito santo c'è anche teologicamente se uno guarda a vedere vikipedia spirito santo tu leggi il breve articolo che c'è su vikipedia non si capisce niente alla fine di un po poi guardi suo vocabulario spirito definizione ma che solo treccani solo calore che bello la definizione di spirito definizione di anima sono uguali quindi cosa vuole dire spiritualità gli spiriti poi una parola disastrata spirito perché pensa spirito a tantissimi significati tanti significati ne avrà una quindicina la parola qui quando una parola tanti significati vuol dire niente è debole è bella una parola che ha un significato quella lì è potentissimo per esempio caffè tu entri in un bar dici caffè nessuno si sbaglia ti danno subito un caffè una parola magica poi devi pagare dici spirito un in che senso perché spirito vuol dire lo spirito del morto che è brutto triste però vuol dire anche il senso dello spirito essere umoristici ma cosa c'è di divertente nello spirito di un morto cosa c'è di lugubre in una spiritosata si capisce no oppure presenza di spirito vuol dire che uno è sveglio però lo spirito è anche uno dei nomi dell'alcol presenti spirito non è sveglio se una tanta presenza di spirito il corpo ecco una parola molto debole spiritualità è una promessa per cui dice mi parla di qualcos'altro bene bene si potrebbe chiamare qualcosaltrismo meglio ancora sarebbe chiamarlo filosofia oppure pensiero però sono troppo impegnative queste parole qua spiritualità sta un po di coriandoli alla fine con quell'accento sulla fede fede è una brutta parola brutta parola perché indica obbedienza a un'autorità primo significato fede religiosa cosa vuol dire fede religiosa vuol dire che ti fidi fede ti fidi di qualcuno di chi di un'autorità religiosa il quale non è che sa le cose a sua volta si è fidato di un'altra autorità religiosa che si è fidato di un'altra autorità religiosa ed è una scala di obbedienze l'obbedienza ha un solo scopo generalmente che quello di avere dei vantaggi quindi se io se uno fa il prete è perché si aspetta dei vantaggi del vescovo se uno fa il vescovo si aspetta dei vantaggi del cardinale se uno fa il cardinale si aspetta dei vantaggi del papa e quindi obbedisce perché gli conviene se uno fa il fedele si aspetta dei vantaggi del prete che sono considerevoli vedete può servirti a farti una raccomandazione può servirti a scaricare i sensi di colpa se fai fretta ecco la confessione può servirti i momenti tragici della vita per esempio funerale matrimonio queste cose qui ti aiuta lui ti sta dietro in quei momenti quindi tu sei obbediente perché ti aspetti un vantaggio è molto pratica la fede nel senso religioso poi fede vuol dire il senso religioso che se ti dicono che dio ha creato il mondo set in sette giorni tu non puoi protestare come chiedere siamo sicuri cioè aveva l'eternità che fretta aveva crea crea al mondo una persona seria ci mette un mese minimo per calcolare tutto e per questo ci sono le zanzare perché l'ha fatto in sette giorni la carie per questo non puoi fare queste domande perché diventi un infedele quindi una persona che semina dubbi oppure sai tutti i dogmi religiosi per esempio per i cattolici il papa quando dice qualcosa ex cattedra cioè una proclamazione col noi non sbaglia mai se tu sei cattolico devi avere fede in questo dogma cioè papa che nel 49 scomunica a tutti i comunisti tutti i comunisti andranno all'interno non ha sbagliato il papa che a certo punto dice negli anni venti facciamo il concordato con mussolini non ha sbagliato ecco si obbedisco se sono religioso obbedisco ci sto non penso mi metto un lucchetto in alcune parti alcune stanze ovviamente e quindi ho la fede se la fede religiosa poi c'è la fede anche un pochino più pericolosa che quella ci credo in questa cosa magari non religiosa ci credo nel potere di quella muletto per esempio ci credo che gli angeli sono biondi ecco le ali ecco questa è una gravissima limitazione la fede che non hanno non presenta neanche i vantaggi della religione dalle vantaggi il prete che ti raccomando e tutto invece quando uno crede in qualcosa per esempio credo che un certo tipo di gatti se li incontri per strada devi fermarti e far passare prima un altro così se la piglia lui ecco uno dice ma aspetta un attimo va beh che vuoi aver ragione quindi dire che io ci credo dire che ho ragione non puoi discutere come come ti conviene ti conviene secondo me no poi c'è il significato perduto antichissimo della fede che indica una specie di settima marcia dell'intelligenza di gente normale a quattro marce che c'è il modello nuovo con cinque maggio marce c'è il modello nuovissimo che ne ha sei comprese anche le teorie fisiche eccetera ecco la fede è una settima marcia così usata nei vangeli fede vuol dire guarda che a te nella tua mente ti capitano delle cose che tu non sai spiegare ma funziona se tu non sai spiegare una certa cosa se tu senti che questo questa cosa qui la senti per una sensazione la fede rientra della sensazione lo sento che è così non so spiegare come mai ma lo sento che è così ecco quella quella invece eccezionale è una forma di intuizione potenziata la fede non dei vangeli quel significato di difede però purtroppo è sparito dietro la fede religiosa e dietro la fede io ci credo che tu non puoi discutere la fede individuale quindi questa è la risposta no quest'ultimo significato della fede è quasi vicino alla disobbedienza laddove il significato religioso di fede invece era proprio l'obbedienza perché è una sorta di c'è di disobbedire anche alla specie se tu senti mai capito insomma il disobbedire all'imperativo della ragione si capisce se tu hai un contenuto della tua mente devi dimostrarmelo bene cristiano bene in modo che lo capisca devi esserne consapevole cioè devi fare in modo che tutti quanti capiscono cosa sta succedendo la fede è una forma di non consapevolezza il contrario della consapevolezza quindi come mai è scritto questo capolavoro ma non lo so non so ma c'era il quando l'hai scritto sì no fisicamente sì però non ero io era cioè è successo come diceva whistler l'arte succede andiamo sì ti devo interrompere perché ci sono tantissime domande abbiamo già usato metà del nostro tempo a disposizione quindi per esempio a stella e scrive sto leggendo come incontrare gli spiriti guida è il primo libro di sibaldi che leggo e trovo difficile concentrarmi non capisco la differenza fra immaginare e pensare tra l'altro io oggi volevo proprio chiederti una domanda sull'immaginazione cioè cos'è per te l'immaginazione e come ti ha aiutato eventualmente a fare i tuoi passi se l'ha fatto dunque immaginare pensare sono tre cose che fa la mente ragionare pensare immaginare ragionare quando applica schemi per esempio compila la dichiarazione dei redditi li ragiona parcheggia lista ragionando fa da mangiare sta ragionando corteggia una persona sta ragionando corteggiamento una cosa molto razionale se distrai un attimo non funziona questo è la ragionare poi c'è pensare pensare e farsi domande che cominciano tutte quante con perché e aspettare la risposta pensare è un gioco come un gioco tu tiri la domanda nel giro di pochi secondi che la risposta devi essere bravo da chi ha parla immaginare invece è una specie di radar che la mente tira su tutto un tratto che realmente accende e che percepisce delle cose che tu non puoi ancora spiegare razionalmente e alle quali non puoi ancora pensare perché non li conosci ancora per esempio se una persona lo so scrive un libro e il libro libera bene cosa vuol dire vuol dire che sto via immaginato cioè tirato su il lo schermo del radar ha captato della roba che non sa ancora spiegare ha cominciato a a pensarci e poi a usare la razionalità di scrittore dice come come la spiego questa come la spiego ci sono i tre gradi dell'attività della mente i maestri sono immaginazione personificazioni dell'immaginazione allora a proposito di ma stavo leggendo le domande sono sono tantissime spero di riuscire a letta anch'io una che la spiritualità è trovare il senso della vita ma non è mica vero non è vero innanzitutto attenzione non ho letto il nome della persona ma sei sicura tu che hai scritto quella domanda lì che la vita abbia un senso uno non è che ne ha diecimila quindi se tu stai cercando il senso della vita attenzione stai limitando un po e poi senso cosa intendi per senso pensaci un po ecco questa domanda risposta cosa intendi per senso a proposito di maestri a un certo punto tu dentro dentro stories dici che c'è questa sorte per i maestri no cioè che appunto arriva il momento in cui te li lasci alle spalle che non è una sorta di mancanza di gratitudine proprio che il ma che il maestro deve essere abbandonato no quindi un po la sorte anche di quelli che ti aiutano una volta che hanno svolto il loro compito tu poi prosegui per la tua strada anche ci sono anche i maestri invisibili però e volevo chiederti innanzitutto se appunto ci spieghi brevemente chi sono questi maestri invisibili che citato poco fa e se anche per loro funziona questa cosa appunto del lasciartegli alle spalle quando è fatta la loro la loro opera si sono delle interfacce perché la mente razionale che è importantissima senza la mente razionale non dubbi di niente il pensiero non è che abbiano un accesso così facile all'immaginazione perché l'immaginazione va a 3.000 all'ora pensiero arriva sia no a 150 all'ora la ragione va a 25 all'ora ragione la bicicletta il pensiero va ferrari e l'immaginazione va su un'astronave qui ci vuole un'interfaccia per comunicare un'interfaccia che permetta alla pensiero e alla ragione di stabilire un contatto duraturo con l'immaginazione e questo qui è antichissima con l'interfaccia lì perché se ne parla già nella bibbia se ne parla nei vangeli e parla dante sono migliaia di anni che sta la gente che se ne intende sta lavorando su questi maestri su questa interfaccia perché l'immagine sia nitida perché le comunicazioni siano buone no è come un come questo questo stiamo facendo noi adesso ecco gli maestri sono l'apparato che permettono alla persona di ascoltare noi che parliamo noi parliamo siamo in questo caso l'immaginazione quelli che ascoltano sono il pensiero e ragione ma esti sono questo schermo qui questi tasti solo che invece di presentarsi sotto forma meccanica tecnologica si presentano sotto forma più o meno umana a volte sono esseri viventi per gli evangelisti non erano essere viventi esseri umani per esempio giovanni ci aveva un'aquila luca toro marco è un leone e matteo per un angelo c'è un ibrido uomo uccello poi dipende e anche i maestri fanno la stessa roba cioè una volta che tu hai fatto un certo numero di progressi nella vita un determinato maestro che tu avevi che ti ha accompagnato visibile dice vabbè io vado allora tu dici no no siamo diventati amici siamo affezionati no 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 adesso arriva uno più alto e dove vai e divento te e qui una volta meno spiegato era molto bello dicevano dunque tu arrivi fino a qua tu puoi arrivare fino a qua maestro invisibile è questo pezzo qua ti aiuta a salire da qui a qui una volta che sei salito qui devi cambiare maestro e nemmeno che tutto sarebbe da qui a qua da qui a qua da qui a qua ma è lunga e quindi cambiano anche i maestri invisibili allora sì 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 lo racconto in un libro racconto di un addio ai maestri nel libro che si chiama l'arca dei nuovi maestri diciamo un addio tragico ai maestri sui maestri arrivano diverse domande no a parte e tanti ringraziamenti che non ti sto leggendo per per non interromperti ma li sto mettendo in insomma in sovraimpressione Elvira adoro quest'uomo mi ha aperto un mondo e Roberta scrive ho acquistato stories appena uscito un tesoro preziosissimo Sibaldi lei non ha idea di come mi sia di ispirazione grazie infinite Poi per le domande sui maestri allora Diego chiede ma noi siamo i maestri di noi stessi che in un certo senso l'hai spiegato con i maestri invisibili no? E poi dice se è così perché cercare un maestro spirituale? Questa che è la domanda da maschio Questa che è la domanda da maschio Dunque le donne davanti allo specchio davanti allo specchio pensano agli altri no? Quando sta davanti allo specchio una donna non è che pensa agli altri uso una serie di miei poteri che allo specchio devo evidenziare il maschio quando guarda allo specchio pensa a se stesso Sono molto buffi i maschi allo specchio sono sempre in privato naturalmente Sai il maschio allo specchio si guarda per lo più la sua cosa spontanea a dire ma ma complimenti no ma guarda se non ci fossi tu se non ci fossi tu che meraviglia poi nota una cosa che non va poi un'altra cosa che non va e in quel momento si sente il maestro di se stesso è un po' non è narcisismo non è narcisismo ma diciamo è una comfort zone se tu sei il maestro di te stesso grandi novità non te ne puoi aspettare perché sai già dove vai a parare se tu hai i maestri che non sono te e questo capita regolarmente con i maestri invisibili a ogni pagina di appunti ti cambia la vita e ogni pagina di appunti ti fermi dici no aspetta devo capirla questa cosa qui perché è troppo troppo diversa il mio modo di pensare molto interessante le maestri che non sono te Maria Grazia come faccio a capire se me la sto raccontando o se davvero sto immaginando i miei maestri le mie guide e sto comprendendo il loro messaggio questa è una domanda che ci fanno in tanti spesso sì allora se stai comprendendo o no non ci vuole del tempo perché ti sembra magari di aver capito mentre parli poi lo rileggi il giorno dopo l'appunto che hai preso e dici no non ho capito niente poi lo rileggi una settimana dopo e dici no non avevo capito niente adesso capisco lo rileggi un mese dopo e dici adesso ho capito cosa ho capito è un processo di crescita per essere sicuri che sono loro hai voglia questo è il problema questo è il problema perché si può perdere il contatto in qualsiasi momento e poi passare dall'immaginazione a raccontarti palle molto facilmente dall'immaginazione all'invenzione l'invenzione è raccontarsela l'immaginazione è percepire e c'è un metodo che si chiama la conferma la conferma allora una caratteristica della conversazione con i maestri è che durante la conversazione il tempo è tolto cioè tu sei già in rapporto col futuro o col lontano passato con qualcosa che non sai e che non potresti raggiungere questa condizione deve essere deve valere però devi dimostrare che è vera quindi per esempio tu stai parlando con i maestri c'hai vicino una Bibbia no? a questo punto dici per essere sicuro che siete voi io non lo so a memoria questa e poi in spagnolo che è la più bella molto più bella dell'italiana questa qua se mi interessa tanta Bibbia edizione Reina e Valera traduzione molto bella traduzione del 1500-1600 protestante spagnola ma protestante quindi più rigorosa della traduzione cattolica e mi è simpatica allora non la so a memoria e non so cosa c'è in ciascuna pagina allora per essere sicuro parlando con i maestri dico conferma se siete voi noi stiamo parlando magari di cavalli mi dovete indicare su questo libro qui adesso subito adesso due righe non una pagina due righe in cui si parli di cavalli e loro dicono sì sì prendi pagina 1401 colonna 2 righe 18-19 vado a vedere 18-19 salì sul cavallo allora ci siamo siamo in contatto benissimo siamo in contatto basta continuiamo questa conferma qui si fa ogni 7-8 righe d'appunti salvo diversa indicazione dei maestri cioè stiamo a fare un discorso lungo ti dicono guarda adesso noi parleremo per due pagine non chiedere conferma per due pagine perché sennò ti distrai prendi nota chiedi conferma alla fine però se una conversazione normale ogni 7-8 righe 10 righe se io sto chiedendo per esempio delle cose che mi servono per essere sicuro non è che mi fido così dico no conferma se magari sto parlando non so di mobili no che mobili servono faccio un esempio dico mi date una due righe di parli mobili vado a vedere che si parla di fagioli allora vuol dire che ho perso il contatto non è che cerco di fare in modo che il fagiolo somigli a un mobile no no vuol dire che hai perso il contatto se hai perso il contatto discutono con i maestri come mai ho perso il contatto poi si fa riattivarlo e se vedi che proprio sono finite le energie e niente per quel giorno chiudi allora c'è stato un piccolo rallentamento tu sei attaccato con la spina alla corrente giusto? tutto a posto con il computer sì perfetto ok va bene adesso sei abbiamo sentito comunque comunque tutto volevo approfittare per dire che prima tu hai accennato alla differenza tra spirito e anima e questo è anche un tema che tu tratterai al festival dell'anima che è un festival organizzato da anime edizioni che va dal 31 maggio al 6 di giugno sei tra i relatori che fanno parte di questo festival quindi chi fosse interessato su anima.tv ci sono appunto le indicazioni anche per entrare nel profondo dedicherai tre ore a questa tematica e vabbè vedremo vedremo cosa ne esce fuori poi c'è una domanda che io ti volevo fare da un po' di tempo sui comandamenti sui dieci comandamenti allora partiamo dal fatto che per esempio nella compilazione dei desideri tu suggerisci di non usare la negazione davanti alle frasi no? perché poi la mente o la psiche va a dare forza attenzione a quello che viene dopo il non no? non voglio questa cosa non penso questa cosa però poi effettivamente vado lì e il non quindi a un certo punto quindi non funziona ma allora perché i comandamenti iniziano tutti con il non davanti cioè Dio ha sbagliato la comunicazione in qualche modo fin da lì no l'hai che sbagliato sono state due versioni dei comandamenti racconta il libro dell'esulio dunque prima versione è quella che Moseva sul monte Sinai che in realtà non era un monte era nella sua tenda va lì ci pensa ci pensa ci pensa ci pensa ci pensa tira fuori l'immaginazione tira fuori l'immaginazione e prepara poi arriva dai suoi nel deserto contento no? che Mosea è anche ingenuo come persona contento dice guardate che bella cosa e mentre si è vicina vede che c'è rumore c'è un sacco di problemi umori danze canti e arriva un suo amico che gli dice e da quando sei andato via questi qui sono passati sono tornati al culto uno dei culti egiziani porco di qua porco di là allora non si merita per il mio lavoro e li spacca la prima legge spacca la prima legge se questi non lo davvero dentro troppo alta per loro torna indietro va a lamentarsi da dire guarda e facciamogli un'altra legge più che vada bene per loro cioè non avere una legge che loro capiscono e che li metta davanti a due cose primo a quello che loro vorrebbero fare per essere stupidi rubare per esempio vedi vedete la tua immagine tu hai rubato poi non cioè la legge si mette in questo modo in forma conflittuale ogni guandamento è conflittuale ti fa vedere cosa puoi fare e cosa non devi fare e non c'è probabilmente la prima legge non era così la prima legge non aveva i nonni si vede una prima legge molto interessante nessuno legge i Vangeli uno dopo l'altro anche perché sono scritti in un modo un po' strano si confondono tra di loro qualcuno non sa dire per esempio la differenza tra Matteo e Marco Luca Giovanni però se uno prende il Vangelo di Giovanni si dimentica tutto quello che sta sui Vangeli e legge solo il Vangelo di Giovanni non trova neanche un'indicazione su cosa fare e cosa non fare neanche una neanche una è una religione bellissima quella in cui c'è un testo religioso che non ti dice di fare niente cioè ti comunica quella che per gli ebrai è la legge non sotto forma di ordine ma sotto forma di stato d'animo è bellissimo il Vangelo di Giovanni se tu leggi dalla prima pagina del Vangelo di Giovanni fino all'ultima e alla fine ti dicono ti chiedono ma cosa dice di fare sto profeta qua e tu dici e non lo so non lo dice invece Matteo Matteo ci dice giù da mattina discorso della montagna non fare questo non fare quest'altro non fare questo fai questo non fare questo quello lì ogni tanto proprio legge conflittuale anche quella no Giovanni quel sarebbe un esempio di prima legge dove non c'era il nonno sempre sui Vangeli c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare dei Vangeli intendo qualcosa che i Vangeli ti hanno fatto scoprire e che prima di leggerli per te era ancora nascosto tanta roba sicuramente ma qualcosa di caratteristico ma tantissimo tantissimo cioè prima di leggere i Vangeli non ti eri accorto di quella cosa i Vangeli l'hanno rivelata o tu comunque astrà proprio tanto astratti astratti io ho cominciato a leggere i Vangeli attentamente mi ricordo avevo tipo 12 anni perché beh perché io non avevo una patria no perché mia madre era russa mio padre era italiano io stavo un po' in Russia un po' in Italia e mi sentivo in Italia mi sentivo russo in Russia mi sentivo italiano e che va bene sì è divertente però è un po' stressantino perché l'italiano ha la sua dieta ride sa ridere di certe cose sa che bisogna ridere di certe cose sa che non bisogna ridere di altre e ha una sua fede religiosa che può condividere o può non condividere almeno è quella lì e il russo diverso tra l'altro a quel tempo i russi italiani erano ancora più lontani che di oggi cioè gli italiani ah beh i russi sono razzisti quindi ah beh tra tutto l'occidente gli italiani facevano ancora tenerezza i russi dice lo so che ve la passate male lì quindi siete buffi insomma però sono capitalisti quindi sono cattivi e per gli italiani i russi erano i mostri una volta mi ricordo avevo quattro anni una signora mi dice ma tu sei il figlio della signora russa io contento dico sì e la signora dice poverino sono rimasto malissimo allora c'era questo dice ma qualche fondamento ce lo devo pure avere faranno tutti sto vangelo cominciamo a leggere perché quello che mi dicono i preti che ho sentito dire sia di qua sia di là mi convince mica tanto mi sembra delle balle allora ho cominciato a studiarlo e beh penso che a ogni lettura è cambiato tutto a ogni lettura poi vabbè è arrivato Trostoi Trostoi a un certo punto si arrabbia contro le traduzioni dei Vangeli si arrabbia tantissimo io ero uno specialista di Trostoi sono ancora il 30% delle opere di Trostoi non è tradotto io ne ho tradotte un po' di quelle non tradotte nella fine degli anni 80 però ce ne sono tantissime che non sono tradotte perché durante il fascismo e dopo la guerra non c'era un editore che li pubblicasse diceva queste lì sono troppo pericolose queste lì fanno paura dal punto di vista religioso queste le pubbliche andiamo in galera e lì sono interessantissime a un certo punto ha tradotto anche i Vangeli Trostoi dicono guardate non è come pensate è scritto così scritto così la moltiplicazione dei panni e dei pesci voi pensate che sia magia ma siete matti non è magia leggetela bene cosa ha fatto è una cosa normale che puoi fare anche tu in qualsiasi momento e questo naturalmente ti cambia molto la vita perché vedendo questo libro vedendo innanzitutto questo disturbo visivo dei tuoi contemporanei e per non parlare di quelli di prima che leggendo i Vangeli vedono delle cose che nei Vangeli non ci sono e non vedono delle cose che ci sono e questo cambia un po' la tua idea a proposito di Tostoi poi io vedendo il tuo videocorso perché il tuo videocorso fa venire strane voglie nel senso che a me Tostoi per mia ignoranza perché non ho mai avuto modo di avvicinarlo non mi ha mai attirato più di tanto mi ha fatto venire una voglia pazzesca di leggermi Guerra e Pace io non penso che non possa finire la mia vita senza leggerlo e poi mi intrigava il fatto che tu sempre in stories dici che le opere di Tostoi sono opere teologiche non religiose che la sua opera è un'opera e quindi niente insomma ci consigli quindi insomma questo tipo Guerra e Pace consiglio la traduzione Mondadori ah ok va bene è importante anche ah certo ovviamente che l'ho fatta io quella andremo a leggere purtroppo è pubblicata in forma massiccia cioè non la puoi leggere a letto perché ha fatto un volume solo e vabbè sarà stile vocabolario va bene insomma sì è teologico e non religioso è una cosa che non si capisce facilmente perché uno pensa teologico e prete no no teologia vuol dire discutere di quello che riguarda Dio ed intorni religione vuol dire non discutere ma ripetere quello che hanno insegnato cioè il teologo non dovrebbe essere religioso purtroppo sono tutti religiosi teologi di solito allora noi siamo siamo in chiusura quindi vorrei farti due domande una domanda sull'attrattore e leggerti almeno una delle domande delle persone quindi ti chiedo di essere più sintetico possibile l'attrattore che tu anche nomini sempre in questo che io ne ho sentito parlare per la prima volta appunto nel videocorso stories poi ho capito che ne avevi già parlato in altre situazioni questa sorta di circuito all'interno del quale in qualche maniera reiteri non ti discosti più di tanto sempre da quel percorso per cui come mai e poi tu parlavi anche dei desideri come qualcosa che ti porta fuori dall'attrattore se ci puoi fare insomma farci intendere cos'è questo attrattore e poi anche come uscirne perché io ho la sensazione che molti vogliono uscire dal loro attrattore ma non sanno come fare e si ritrovano sempre sulla stessa strada allora la teoria fa parte della teoria del caos ci prenderebbe un quarto d'ora solo per fare il disegnino racconto una storia c'è un mio caro amico che si occupa di animali abbandonati o in difficoltà e mi raccontava che a un certo punto gli avevano segnalato che c'erano delle ocche che erano state cresciute dentro che erano cresciute dentro una stanza dentro una baracca di un metro per un metro e mezzo e le tenevano lì all'ingrasso no? allora lui arriva e dice no 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 questo io le salvo io le compro io e le portate nel posto e gli animali poi queste avevano un recinto molto grande queste guide del recinto grande non si spostavano da un'area di un metro per un metro e mezzo anche se non c'erano barriere perché loro potevano sopportare soltanto un movimento che non andava oltre un metro un metro e mezzo terribile ecco così è per ciascuno di noi ognuno di noi non ha un metro e mezzo proprio preciso ma qualcuno c'era 80 centimetri qualcuno ha due metri però sta lì e se va a due metri e dieci perde le forze e gli capita qualcosa di brutto sì per il trattore bisogna riuscire a superare poi le otto sono riuscite quindi si vuole un po' un atto un atto di forza o forse un atto di immaginazione 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 l'altra domanda qual era? la domanda è di Alessandra una domanda interessante ciao a tutti può accadere che nelle conversazioni con i maestri invisibili si intromettano degli impostori che ti raggirano e ti mandano in confusione ah li fai fuori subito li fai fuori subito perché la conferma non torna più la conferma non torna più il punto i punti delicatissimi sono due cioè i punti deboli quando parli di cose di carattere sentimentale per esempio questa qua ci sta o non ci sta no? così non perdo tempo di parli con loro magari stai anche innamorato ecco lì lì è facile che si infiltrino gli impostori oppure quando parli di soldi per riuscire a parli di soldi con i maestri c'è da fare un lavoro un lavoro perché purtroppo la stragrande maggioranza delle di tutte le persone e la stragrande maggioranza della nostra mente è sintonizzata sulla punizione sulla punizione cioè preferisce la punizione al trionfo prova ne sia guarda le lotterie come vanno bene chiunque gioca a una lotteria perde perde cioè capita uno su 200.000 che vince e quello poi ha un sacco di problemi tra l'altro però si gioca lotteria per perdere si va al casino per perdere perché c'è questo bisogno mental bisogna riuscire prima per parlare di soldi con i maestri bisogna prima arrivare al centro di questo sindrome della punizione e smontarla ci vogliono anni è un po' il corpo di dolore che si nutre che vuole nutrirsi della negatività negativo è sempre questo ambito è un chip che c'è nella mente secondo me è colpa di gran parte dei genitori della religione eccetera e della religione non sapevo che tu sei sbagliata tu sei sbagliata che non va bene poi non so neanche un po' cattiva potevi fare delle cose belle non le hai fatte la pagherai per tutto la vita ecco e uno è sicuro quindi sono sbagliato a me siamo tranquilli quindi sai vincere diventare di colpo ricchissimi poi non so cosa fare invece se continuo a barcamenarmi sono sicuro allora lì entrano facilmente non sono impostori sono cali di forze basta riconoscerli e poi si possono allontanare tranquillamente io con i miei con i miei viaggi con i maestri invisibili hanno una qualità gli impostori hanno una qualità che tu senti che è diversa quindi non lo so magari ci si abitua ci si deve allenare secondo me un po' sentirli sì sì ogni volta che ne vecchi uno è una gioia quando da che riesci a inquadrarne uno sta ne un vampiro fai fuori un vampiro e ti migliora tutta la situazione il giorno dopo ti capitano delle cose bellissime quando riesci a fare fuori un impostore il giorno dopo te ne capitano di cose meravigliose è vero per 24 ore impostori dentro e fuori perché a volte vanno a braccetto quelli e tutto un altro discorso però quando li stani l'energia aumenta insomma quindi può darsi che il principio sia quello allora mio caro siamo arrivati alla fine di questo incontro allora innanzitutto ringraziamo tutte le persone che ci hanno fatto compagnia e continuano a inviare i loro messaggi di apprezzamento ringraziamo Igor Sibaldi io ricordo che attualmente Igor ci sono anche gli incontri che tu stai facendo con noi per il ciclo sensazioni e sentimenti se come qualcuno prima ha scritto un commento ho espresso il desiderio di vedere Igor in una conferenza adesso nel streaming io però desideravo dal vivo ecco che a Milano può approfittare di questa occasione tutte le informazioni sono su Anima TV e poi ricordo ovviamente che sarai presente come abbiamo detto prima al Festival dell'Anima dove ci parlerai in particolare di Spirito e Anima che non sono la stessa cosa Igor ti chiedo quindi un'ultima piccola riflessione se vuoi un tuo augurio così chiudiamo questo incontro con le tue parole un augurio sì un augurio sì per tutti un augurio è perfetto per questo periodo difficilissimo difficilissimo augurio di fare quello che ti piace davvero e di farlo finché ti piace non un minuto di più e non un minuto di meno grazie allora grazie di cuore grazie a tutti buona serata ciao ciao a tutti ciao ciao